Buonasera a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi faremo la seconda parte di Pokemon Soul Silver Ok, la prima parte era che ci stavamo avventurando Ok, per continuare dovremmo andare a casa della mamma Perché ci voleva Il progetto è il progetto Il progetto è il progetto Sì, sì, dici. Mi piace. Mi piace. E ok. Mi sembra che è diventato un avventurato, c'è il professore che ci chiamava. Io non saluto a me, mi cazzo. He he! Uh! Ah! Sì, è un avventurato. È un avventurato. Sin da qui. Appare footage silpatico. Cosa deve fare, sin da qui? Azione. Scusate, è arrivato un messaggio. Aspettate un attimo... Ok. Luce ha usato... Un razion. È un luci. 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 16 punti esperienza questo gioco non è come gli altri un po' ragazzi poi pensate un attimo che in pokemon platinum il livello aumenta più facilmente invece gli altri giochi no cioè poi ragazzi io in pokemon nero 2 che fosse sabato prossimo cominciò il primo gameplay tenevo samurai 8 all'80 e non riuscivo a battere la leica io sono in un gioco e con i trucchi ho riuscito a battere la leica cosa non avrei mai battuto vabbè ma tanto tempo fa perché non sapevo che sarà super efficace contro quello contro quell'altro visto che ora lo so è meglio aspettate mi sembra lì dietro c'è una propria bocca ma si tocca a te fare vedere chi sei stiamo a 5 minuti attraffato anche se stavano a 4.55 andavano 5 secondi notte a 4.55 non è quello in bara muro di fu che è mossa di merda un po' di merda perché a questo è utile aumentare la decisione all'altro cioè fa abbassare urratta ok ora devo sentire un po' scusate vai brutto colpo ecco come pensavo una pozione il nostro sindaco sta quasi per cadere aspetta faccio uno scherzo telefonico ragazzo è la bella telefono pronto gold sì sono io cerca di non fare il passo più lungo della gamba delle gambe cura sempre i tuoi pokemon se sono stati colpiti tu telefoniamo a mamma invece pronto oh ciao gold sono sono in missione per il professor va bene ragazzi il video conclude qui e ciao 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 ciao